Taccuino in mano, rigorosi, irremovibili ma soprattutto visibili. Una volta i vigili urbani facevano quasi parte dell'arredo cittadino. Nei punti più nevralgici del traffico di Campobasso dirigevano le auto, impartivano consigli e proprio perché presenti erano il miglior deterrente contro le infrazioni. Negli anni, un po' per la riduzione del personale, un po' perché le abitudini sono cambiate, la figura del vigile urbano ha perso molto della sua connotazione originale. Perfino la divisa è meno marziale e il casco rigido un po' ingombrante ha lasciato il posto al cappellino da baseball di stoffa che fa tanto polizia americana. Alla presenza quotidiana sulla strada i vigili oggi circolano per lo più anche loro in auto. Nel centro città, per lo più quasi tutto destinato a soste a pagamento, il compito di controllo è passato ai cosiddetti ausiliari del traffico. Hanno invece il compito di verificare l'avvenuto pagamento del ticket e di elevare contravvenzioni. Ma cosa accade per le auto in sosta vietata? La scarsa presenza dei vigili rende determinante la sorte. Passerà la pattuglia? Gli agenti di turno saranno tolleranti o intransigenti? E così i cartelli di divieto diventano solo un avviso affidato alla coscienza civica di ognuno. Piazza Pepe è il simbolo di questa approssimazione. Il divieto di parcheggio su tutta la piazza, ovviamente escluse le zone blu, ma nell'arco di 5 metri ci sono i pagatori del ticket controllati dagli ausiliari che passano e ripassano senza pausa. Di fronte c'è chi si affida alla sorte e la passa liscia. Capita a volta di trovare 8-10 auto in sosta vietata e una sola multa. La pattuglia di vigili, passata nel momento in cui era parcheggiata una sola auto, l'ha giustamente multata, ma poi le altre che si sono fermate in seguito l'hanno scampata. A breve arriveranno le telecamere in gran parte della città. Potrebbero avere, ma qui sorgono dubbi di legittimità, anche la funzione di rilevare le infrazioni degli automobilisti. Per il momento Piazza Pepe, Corso Bucci, Via Pietrunto restano il regno della doppia fila e davanti all'eroe spadaccino di Civita Campomarano si continua a parcheggiare guardandosi attorno. Ma ci sono i vigili?